ti sei mai chiesto o chiesta perché i tuoi peti puzzano così tanto o forse perché ti escono così spesso ebbene il peto è un processo biologico salutare che aiuta a eliminare i gas che altrimenti ti farebbero stare male di stomaco non tutti i peti sono uguali alcuni possono essere rumorosi e inodori mentre altri sono silenziosi e come si suol dire mortali non preoccuparti se l'odore o la frequenza dei tuoi peti ti imbarazzano nel video di oggi ti spiegheremo quali potrebbero essere le cause dei peti così frequenti come evitare quelli puzzolenti e come aiutarti a combattere i tuoi problemi di gas la prima e principale causa potrebbe essere la tua dieta il gas dei peti è un normale e innocuo sottoprodotto della digestione di solito è dovuto all'ingestione di aria mentre si mangia la maggior parte delle persone soffre di flatulenza cioè emissione di gas dalle 14 alle 25 volte al giorno e contrariamente a quanto si crede la maggior parte dei gas non ha odore tuttavia a volte può capitare che il gas abbia un odore terribile la ragione più frequente dei peti puzzolenti è la dieta e le abitudini alimentari quando mangi velocemente potresti ingerire più aria insieme al pasto causando una maggiore produzione di gas da parte dell'apparato digerente alcuni alimenti rendono le fratulenze più puzzolenti come gli alimenti ricchi di fibre tra cui fagioli verdure a foglia verde e frutta i batteri dell'intestino rilasciano gas come idrogeno anidride carbonica e metano quando scompongono le fibre e possono causare peti maleodoranti i gas odorosi possono essere prodotti anche da alimenti ad alto contenuto di zolfo come cipolle broccoli e cavoli quando questi alimenti si decompongono vengono rilasciati dei composti di zolfo che producono un gas dall'odore sulfureo o simile a quello delle uova marce tuttavia puoi ovviare in parte a questo problema masticando bene il pasto e mangiando lentamente per facilitare la digestione le diete ad alto contenuto di zolfo non dovrebbero essere evitate ma se non vuoi avere problemi di gas cerca di evitarle prima delle occasioni speciali oltre alla dieta un'altra causa della gassosità è rappresentata dalle allergie alimentari le intolleranze alimentari sono causate da alcuni alimenti che il corpo ha difficoltà a digerire la più comune è l'intolleranza al lattosio che si verifica quando il corpo di una persona non produce abbastanza enzimi per digerire il lattosio lo zucchero presente nel latte e in altri prodotti caseari quando il lattosio non digerito rimane nell'intestino e viene scomposto dai batteri crea dei gas che peggiorano le flatulenze il gas può derivare da altre intolleranze alimentari come l'intolleranza al glutine l'eccesso di grassi o l'intolleranza ai lipidi nei soggetti con intolleranza il lattosio passa dall'intestino tenue al colon dove si radunano trilioni di batteri senza essere digerito se ritieni di avere un'intolleranza alimentare tieni un diario degli alimenti per identificare quelli che ti fanno stare male ed evitarli alcuni aiuti alla digestione come le compresse di lattasi possono fornire al tuo corpo gli enzimi necessari per assorbire meglio alcuni alimenti il prossimo punto della nostra lista è la stitichezza che potrebbe anche farti fare più peti la fibra è il componente principale delle feci quando le feci rimangono nel colon per più di 36 ore in media i microorganismi scompongono le fibre e rilasciano gas i cibi fritti le carni lavorate i prodotti da forno e gli alimenti ad alto contenuto di grassi non sempre provocano peti tuttavia il consumo di pasti a basso contenuto di fibre come questi può rendere difficile il passaggio delle feci con conseguente stitichezza e gas generato dai batteri la causa di fondo della stitichezza è solitamente la mancanza di fibre nella dieta prova ad aggiungere ai tuoi pasti alimenti ricchi di fibre come lenticchie broccoli bacche avocado cereali integrali e mele oppure prova ad aggiungerli alla tua dieta come spuntino in ogni caso per gli uomini è meglio consumare 38 grammi di fibre al giorno e per le donne 25 grammi al giorno inoltre ricordati di fare attività fisica regolarmente e di bere molta acqua se non riesci ancora ad avere almeno tre movimenti intestinali a settimana potresti aver bisogno di lassativi per aiutarti sorprendentemente la colpa potrebbe essere dei farmaci sì hai sentito bene numerosi farmaci e integratori alimentari possono interferire con il passaggio del cibo attraverso l'apparato digerente provocando le flatulenze alcuni farmaci contengono sostanze riempitive o alcoli dello zucchero che potrebbero essere difficili da digerire i seguenti farmaci possono provocare peti sgradevoli antidolorifici da banco anti infiammatori non steroidei e anti acidi farmaci per la diarrea integratori di fibre antidolorifici narcotici e antidepressivi se il problema del gas è dovuto ai farmaci potrebbe essere necessario ridurne interromperne o modificarne il dosaggio non farlo mai bruscamente o senza un consulto oltre a cambiare i farmaci potrebbe essere necessario apportare modifiche allo stile di vita per migliorare la digestione come ad esempio migliorare il microbioma dell'intestino il microbioma intestinale contiene trilioni di microorganismi che vivono nel tuo tratto intestinale un buon microbioma intestinale contribuisce positivamente alle funzioni metaboliche del nostro corpo e influisce sulla nostra fisiologia in salute e in malattia eventuali squilibri batterici nel tuo microbioma possono sicuramente causare gas eccessivi e sgradevoli i batteri intestinali rilasciano sostanze contenenti zolfo come l'idrogeno solforato durante la digestione conferendo al gas un cattivo odore gli alimenti che mangi possono alterare la comunità batterica che vive nel colon influenzando le tue fratulenze alcune persone hanno una flora interna che le porta a produrre più gas maleodoranti di altre la crescita batterica dell'intestino tenue è un altro tipico colpevole e ha molti ruoli da svolgere questo accade quando nell'intestino tenue si accumulano troppi batteri che possono interferire con l'assorbimento dei nutrienti e provocare una vasta gamma di disturbi digestivi spesso con il rilascio di gas maleodoranti fagioli più ne mangi più ne mangeresti essi sono i fagioli sono un'ottima fonte di minerali nutrienti antiossidanti e proteine tuttavia hanno la reputazione negativa di creare il gas i fagioli contengono oligosaccaridi della famiglia del raffinosio dopo un pasto ricco di fagioli potresti avvertire gas e gonfiore a causa di questo gruppo di zuccheri ciò è dovuto al fatto che l'apparato digerente manca di un enzima cruciale necessario per digerirli e scomporli il raffinosio si trova anche nei cereali integrali negli asparagi e nelle verdure crucifere l'assunzione di un integratore digestivo a base di enzimi può aiutare a ridurre il disagio a proposito di zuccheri i batteri si nutrono di alimenti specifici come gli zuccheri e i carboidrati non completamente scomposti quando entrano nell'intestino crasso consumano le particelle di cibo non digerito un processo noto come fermentazione e producono gas sotto forma di anidride carbonica idrogeno e metano che conferisce alla flatulenza il suo caratteristico odore una dieta di eliminazione può aiutarti a scoprire gli elementi specifici che causano il gonfiore anche se a volte può essere difficile individuare la fonte del problema comincia eliminando le fonti di zucchero dalla tua dieta e poi procedi con l'eliminazione in questo caso può essere molto utile lavorare a stretto contatto con un nutrizionista che possa aiutarti in questo processo secondo alcune ricerche la maggior parte degli alimenti ricchi di carboidrati tra cui lo zucchero può provocare la gassosità tuttavia alcuni zuccheri in particolare producono più gas di altri ecco come il fruttosio è lo zucchero principale presente nella frutta si trova anche in diversi alimenti trasformati come lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio il sorbitolo è uno zucchero alcolico presente in frutta come mele pesche pere e prugne viene anche utilizzato come sostituto del dolcificante in alimenti e caramelle a basso contenuto di carboidrati è stato riferito che zuccheri come il sorbitolo e il fruttosio contribuiscono a provocare una sgradevole flatulenza anche se hai un sistema digestivo sano questi zuccheri possono causare gas ma se hai alcune patologie che rendono difficile la digestione di alcuni di essi le probabilità di sviluppare gonfiore e gas aumentano il cancro alcolon potrebbe essere il colpevole il cancro alcolon è una causa rara di peti maleodoranti a causa di un'ostruzione del colon i pazienti affetti da cancro alcolon lamentano spesso di avere difficoltà a espellere il gas il blocco fa sì che il gas rimanga nell'intestino inferiore e produca un odore sgradevole se inizia a soffrire di fastidi e gas dall'odore insolito e un cambiamento nella dieta o un farmaco non migliora i sintomi potrebbe essere necessario sottoporsi a una colonscopia il trattamento del cancro alcolon dipende dallo stadio del tumore potrebbe comportare la chemioterapia per uccidere le cellule cancerose e l'intervento chirurgico per rimuovere il tumore il gonfiore e l'accumulo di gas sono sintomi comuni di polipi e tumori nel tratto digestivo che rendono difficile il passaggio del gas questo provoca un forte disagio e peti puzzolenti ultimo punto della nostra lista potresti avere una malattia o un'infezione sebbene la puzza da sola non sia in genere nulla di cui preoccuparsi alcune circostanze che portano a un cambiamento della flora intestinale a causa di alcune malattie croniche possono provocare un cambiamento o un aumento del gas anche la distensione addominale provoca gonfiore e può portare a flatulenza con la produzione di gas maleodorante se noti un cambiamento nelle tue abitudini intestinali o un dolore persistente allo stomaco dopo aver emesso gas o essere andato in bagno potrebbe essere indice di un'altra patologia di conseguenza è fondamentale escludere la presenza di nuove malattie che potrebbero essere la causa delle flatulenze pungenti esempi di malattie infiammatorie intestinali sono il morbo di cron e la colite ulcerosa anche il cancro all'intestino la diarrea o un'infezione batterica potrebbero essere la causa di un peto puzzolente anche se fare peti è un'azione biologica naturale può essere imbarazzante se hanno un cattivo odore e se succede spesso è un'azione biologica naturale